Oggi è argomento un po' diverso dal solito, sì perché ti sembrerà strano, ma credimi, mi contattano persone che non amano viaggiare e mi contattano per diversi motivi. Il primo è quello di cercare una conferma al non essere diversi da tantissime persone che in rete declamano il loro amore per i viaggi, quindi queste persone magari si sentono un filo fuori dal giro, fuori dalla normalità per quello che si intende per normalità. Altre persone mi contattano, mi scrivono quasi per valutare se il loro problema del non viaggiare, del perché non viaggiano, possa essere risolto o meno. Spesso e volentieri non sono io la persona adatta a risolvere queste problematiche, ma che vedremo poi anche in questo video, ma capisco perché contattano me, capisco perché che mi scrivono, vedono qualcuno che parla sempre di viaggi, che ha una community viva e per questo ringrazio tutta la mia community e magari provano a cercare un aiuto, anche se magari non è il luogo ideale. Insomma, come da titolo, il video di oggi è Non viaggio perché, puntini puntini. Vediamo le motivazioni principali per cui mi si scrive dicendomi che non si viaggia. Ti do uno spoiler, ti faccio un'anticipazione. La maggior parte di questi motivi ha un senso. Ha senso, quindi sono motivi delicati che andremo ad affrontare. In un caso, un caso e mezzo, non arriviamo a due casi di quelli che tratto oggi, non hanno nessun senso queste motivazioni. Sono motivazioni del tutto illogiche e purtroppo denotano anche una certa ignoranza nel senso dell'ignorare tante cose, non nell'insulto, nel senso di ignorare parecchie cose e non volerle nemmeno affrontare. Mi sembra logico anche questo e forse quello è anche peggio. Andiamo via random, non le divido per categorie perché è una chiacchierata insieme. Ho preso appunti perché alcuni ho fatto un sunto e tradotto in un commento che mi può arrivare perché sono tanti e diversi commenti e quindi ho cercato di fare un riassunto per poi creare un commento template, un commento tipo. Andiamo con la motivazione numero uno. Non mi interessa viaggiare, non mi piace proprio, mi crea disagio organizzare o anche solo pensare di partire. Ok, ok, questo è uno dei motivi secondo me più importanti e uno dei motivi che ha anche più senso di tutti gli altri. Quindi ti anticipo che questo motivo, il numero uno, ha molto senso. Come ho già avuto modo di dire in passato in alcuni viaggi dove si trattava le paure e lo ridirò anche oggi, non è obbligatorio viaggiare. Se una persona mi scrive e mi dice io mi sento completamente diverso o diversa da tutti perché vedo un canale come il tuo, canali come altri, vedo persone su tutti i social che invidiano quello, invidiano quell'altro, non vedono loro e quando partono spammano un milione di immagini, video, foto eccetera eccetera per condividere i propri viaggi. A cui io mi sento diverso o diversa perché non ho questa esigenza, non me la sento proprio di partire, non ne ho voglia. Il solo pensiero di cominciare a organizzare, comprare un volo ma anche solo ad andare in agenzia per organizzare e poi pensare di fare una valigia, partire. Benissimo, ci siamo capiti. Per te che hai questo sentimento, io credo che il viaggio non sia fatto per te. Non è che tutti siamo fatti per viaggiare. Questa tipologia di hobby, questa tipologia di amore, tu non ce l'hai. Il che non ti rende un individuo peggio o meglio di altri, ok? Semplicemente non hai quell'interesse. E come ho detto non è obbligatorio viaggiare. Seppur siamo su un canale che parla di viaggio, ti garantisco che non è obbligatorio viaggiare. È però chiaro che, come in tutte le cose che non sono assolutamente obbligatorie, ma che in un certo modo formano, quella mancanza la dovrai prendere in altri modi. Ti faccio un esempio. Quando qualcuno mi dice io non amo leggere, io non leggo, non riesco a leggere, non mi piace eccetera eccetera, io non ho mai, mai e poi mai criticato una persona per questo motivo. Posso provare a comprenderti, ti posso anche dire quell'apertura mentale, quella vita, quell'esperienza, quella crescita che trovi nei libri la dovrai trovare altrove, che sia frequentando eventi, che sia andando a camminare, che sia qualsiasi cosa, chiacchierando al bar davanti a mille birre, non lo so, in qualche modo dovrai comunque trovare quello che ti manca nel non leggere. Idem vale per il viaggio. L'apertura mentale, il confronto con le culture che puoi avere con il viaggio non ce lo hai in nessun altro modo, per cui dovrai per forza assimilarlo in qualche altro modo. È un po' un altro esempio. Non hai la luce del sole d'inverno. Quelli che vivono in nord Europa e vivono al di là del circolo polare artico, per qualche mese non vedono la luce del sole. Devono integrare con della vitamina D, perché la vitamina D data dal sole è fondamentale per il nostro fisico. Ok? Ora, viaggiare non è fondamentale per il nostro fisico, lo è per la nostra mente e per la nostra anima. Come leggere, come fare tante altre cose? Ok, ti ho fatto 70.000 esempi. Alcuni sono molto più calzanti, altri un filo più tirati, ma hai capito gli esempi. Non sarà mai un obbligo viaggiare, se non ti piace farlo, ma dovrai fare in modo di prendere quell'apertura mentale in altri modi. Leggendo, guardando film e documentari, parlando con qualcuno a cui piace viaggiare, che ha visto mille posti e rimanendo ad ascoltarlo o ascoltarla, andando a eventi, quello che vuoi, quello che vuoi. Io ricordo sempre l'esempio di Emilio Salgari, il creatore di mondi avventurosi e fantastici Sandokan e le tigri di Monpracen, non ha mai viaggiato. Ha fatto viaggi cortissimi e soprattutto non è mai uscito dall'Italia e non è mai stato in Malesi. Ok? Però quella cultura che lui aveva se la prendeva dai libri, chiuso in biblioteca per ore e ore e ore. Poi è un esempio un po' balordo perché non ha fatto una bella fine Emilio Salgari, però detto questo, ok, hai capito cosa intendo. Lui non ha mai viaggiato e ha scritto qualcosa di epico a livello di viaggi, di avventure. Motivazione numero due, io ho paura di questo o di quello e quindi non viaggio. Qui devo mettere in un unico calderone tutte le possibili paure che ci sono nel mondo di viaggi, quindi per forza non sarò esaustivo. I più grandi sono la paura di volare. Gli ho dedicato video, gli ho dedicato perfino un approfondimento alla paura di volare. La paura della sicurezza, di non essere sicuri in viaggio, sono due tra le più grandi e assolute paure di chi viaggia. È chiaro che il non voler viaggiare per una paura presuppone che da un certo punto di vista dipende dal grado della paura che hai. Perché se hai paura di volare, ti ripeto, non è obbligatorio viaggiare. In questo caso ci aggiungo in aereo. Ti taglierai una fetta di mondo importante, ma se non hai tempo di arrivarci. Anche questo lo dico. Ma puoi comunque viaggiare. Rimangono i treni, rimangono i bus, rimane l'auto. Quindi il viaggiare per te non è precluso. Assolutamente no. Per quanto riguarda la sicurezza, nemmeno in quel caso il viaggiare è precluso. Perché se la paura per te di viaggiare è quello di non essere sicuro in viaggio, andrai almeno all'inizio, almeno fin tanto che non avrai delle certezze da questo punto di vista, sceglierai delle mete in cui hai la certezza, numeri alla mano, fatti e dati alla mano, che siano anche più sicure della tua provincia, del tuo comune. Mi sembra facile in questo momento storico viaggiare in un luogo nel mondo in cui ci sia un tasso di criminalità inferiore a quello del tuo comune, della tua provincia, della tua regione o del nostro Stato. Quindi si trovano, si trovano e come? Senza andare nemmeno troppo lontano. Per cui, detto questo, anche nel caso della sicurezza, almeno all'inizio, come detto, troverai delle destinazioni un po' più sicure, numeri alla mano e quella paura svanirà. Poi qui mi devo fermare perché esistono delle paure in cui io non posso mettere mano. Ci sono delle paure, diciamo, che deve affrontare un coach, deve affrontare un cancer, deve affrontare uno psicologo, uno psichiatra. Insomma, stiamo parlando di paure troppo importanti e se c'è dietro comunque un desiderio importante di viaggiare, beh, allora quella paura la si affronta con il dovuto aiuto. Prima da casa, l'esempio del viaggiare da soli. Tante persone in passato che avevano paura di viaggiare da soli per mille motivi, con l'aiuto di uno psicologo o di un cancer, l'hanno passata questa paura. Sono stati aiutati prima con dei viaggi più vicini, insomma gradualmente, però è passata questa paura. Insomma, quello che voglio dire è che si arriva al capitolo delle paure ed è così enorme che devo per forza generalizzare, ma ci sono alcune tipologie di paure per cui ha senso dire non viaggio, almeno per il momento in cui faccio un percorso. Ci sono altre paure per cui dici non viaggio che non hanno senso, che non hanno senso di esistere. Passiamo ora alla motivazione numero tre, che è quella l'unica che veramente non ha nessun senso, proprio come viene espressa. Allora, io non viaggio perché ormai costa troppo. Ormai viaggiare è per ricchi. Ecco, questa, permettimi, è una grandissima, enorme stronzata. Ho fatto questa semi-citazione perché, perché sì, sostanzialmente lo è, una grandissima stronzata. E mi dispiace se la pensi così, ma lo è, semplicemente perché è una questione di priorità, non è una questione di denaro. È una questione di destinazione, di scelta delle destinazioni. Non è una questione di denaro. È una questione di come ti approcci al viaggio, di come vuoi vivere il tuo viaggio. Non è una questione di denaro. E qui mi fermo perché potrei andare avanti all'infinito. Ti ripeto soltanto che è una questione di priorità. Questa motivazione, se tu sei tra quelli che mi ha scritto o che continua a scrivere, io non sono qui a volerti far cambiare idea, per l'amor di Dio, non ho nemmeno i titoli per farlo. Puoi bollire nel tuo brodo quanto e quando vuoi. Ma questa motivazione non ha senso. Avrebbe e ha più senso se tu me la esponi in un altro modo, se tu me la esponi in questo modo. Non viaggio perché non è la mia priorità. E qui i soldi preferisco spenderli in un iPhone. Preferisco spenderli in un telefono. Preferisco spenderli in sigarette. Preferisco spenderli in serate con gli amici. Preferisco spenderli in palestre. Preferisco spenderli nella mia bicicletta. Preferisco spenderli in attrezzatura Decathlon. Preferisco spenderli in oggetti per il mio hobby. Qualsiasi hobby sia. Dai soldatini di piombo, se esistono ancora, ai trenini elettrici. Insomma, per qualsiasi motivo. Per la mia moto. Ed è giusto che sia così. Perché è una tua priorità. Ma non puoi dirmi non viaggio più perché costa troppo. Perché con i soldi che spendi per cambiare il telefono ogni due anni, tre anni, quello che è. Ogni anno, in tanti casi, i viaggi se ne fanno. Si cambia una volta in meno il telefono e si fanno dei viaggi. Con quel risparmio, spesso e volentieri, si fanno dei grandi viaggi. Magari si decide di viaggiare con un tenore di vita in viaggio un pochino più basso. Insomma, è questione di priorità. Io non vado a discutere le tue priorità. Tu dicendo io non viaggio perché costa troppo. Stai discutendo le nostre priorità. Le priorità di chi viaggia comunque. Che ha fatto delle scelte e dà per prioritario il viaggiare. Non procedo oltre. Avrei capito il discorso qual è. Non voglio criticare nessuno. Non sto criticando nessuno. Anzi, è chi mi scrive dicendo questa cosa che in primis critica me e tutti quelli che viaggiano. E questa è una critica velata da grande problema sociale. Cosa che non lo è. Per me il problema sociale è un telefono che costa 1500 euro. Quello per me è un problema sociale. Ma per me, per Cristiano Guidetti, non per chi ama la tecnologia, ama i telefoni, ama avere un telefono da 1500 euro nuovo di pacca ogni singolo anno. Per lui no. Ma per me sì. È molto personale questa cosa. Come anche spendere soldi in viaggi. Motivazione numero 4. Forse la più delicata è quella che ha anche tanto senso. Lo dico già. Faccio lo spoiler. Questa ha tanto senso anche se ha una chiave di lettura proprio per esperienze personali che va un pochino vista. Viaggerei ma non posso farlo perché ora ho questa responsabilità. Ho messo questa frase questa responsabilità perché potrebbe essere che mi abbiano scritto ho un familiare che non sta bene devo stare a casa, ho un nonno da accudire e così via. Ci siamo capiti. Ho un problema fisico, ho una malattia in questo momento. Insomma tutte cose molto ma molto delicate. E soprattutto un caso fa storia a te e da un mondo di senso. Su questo punto io non posso almeno nella stragrande maggioranza dei casi intervenire e dire o dirti delle cose come ti ho detto prima. Perché non lo posso fare? Nel senso che ogni situazione è così delicata, così privata che deve avere un senso per te. Io ti posso fare degli esempi miei. Io posso per ora dirti che queste motivazioni spesso e volentieri però sono temporanee. In modo anche purtroppo naturale del tempo sono temporanee nel bene o nel male. Questo dobbiamo essere chiari. Però come temporanee vanno prese. Un'altra cosa che mi sento di dire è qualche esempio, un esempio su tutti che è capitato ad un amico. Quindi una persona molto molto vicina. Cioè nel senso un nonno appunto citavo prima da accudire e non ci si muoveva più di casa. Questo amico con la moglie non si muoveva più di casa. Io ho sempre detto pervacco. Cioè è un punto importante però c'erano le soluzioni. Non è che stiamo parlando di partire per due mesi e nemmeno per un mese. Stiamo parlando di partire in viaggio una settimana in Italia o in Europa. E le soluzioni c'erano e io gliele facevo anche notare perché c'era questo desiderio di partire. C'era questa lamentela sul fatto di non poter andare perché. Io facevo notare che ci sono altri familiari e soprattutto disponibili a essere presenti per qualche giorno al nostro posto. Il problema è che spesso noi non ci fidiamo delle altre persone su alcuni argomenti e anche qua diventa un caso molto personale. Alcune volte si è molto esagerati nel non fidarsi. Altre volte c'è un fondo di ragione. Insomma è tutto molto personale però nel mio caso dell'esempio era molto esagerata la cosa. Dopo a lungo andare a tirar di qua e tirar di là sono riuscito insieme ad altre persone, ad altri familiari a convincere questi amici a partire e non è successo assolutamente nulla. Si sono goduti la vacanza con un filo di preoccupazione ma si sono goduti la vacanza e dopo si è tornati a casa in maniera del tutto tranquilla e senza grossi problemi. Questo è un caso che poteva avere una soluzione. Tante volte si ha delle soluzioni e tante volte ci si incancrenisce a non volerla trovare. In altri casi la soluzione temporaneamente non esiste. Io qui non sto a dire che questa motivazione infatti sia risolvibile. Io dico che questa è la più delicata di tutte perché ha tante sfacciottature e ogni caso è diverso. Quindi io ho fatto soltanto un esempio però mi arrivano questi commenti e quindi dovevo per forza inserirlo perché per dare un po' di coraggio dicendo soprattutto per tante di questi commenti è temporaneo ragazzi. Nel bene o nel male ma è temporaneo. Te ne passo un'altra di motivazione perché sta crescendo il numero di commenti in cui mi si scrive questa cosa. Io non viaggio più o non viaggio in quel modo, anche qui è molto differente la cosa perché ci sono varie sfaccettature. Io non viaggio più in aereo perché gli aerei inquinano troppo. Io non viaggio più così perché sono un impatto ambientale enorme. Voi credetemi se vi dico che cominciano a crescere parecchio le persone che vivono nel terrore di impattare a livello ambientale. Io credo che qui bisogna un po' rivedere la cosa. Seppur siano decisioni assolutamente personali e io sono il primo che parla di impatto ambientale e di responsabilità sull'impatto ambientale quando viaggiamo e lo sapete, dico anche che per quanto mi riguarda questa problematica non deve diventare una paura perché non lo deve diventare una paura. Se per tutto l'anno sono virtuoso a casa e faccio il virtuoso a casa e anche se parto in viaggio e prendo un volo che non è la cosa più virtuosa del mondo, siamo d'accordo. Ma se poi in quel viaggio cerco di fare cose che comunque siano al minimo impatto ambientale possibile, avrò fatto quel volo lì per l'amor di Dio, ma non dovete crocifiggervi, non dovete mettervi in croce per primi. Non deve diventare una paura quella di impattare a livello ambientale. Deve diventare una cosa di coscienza, quindi diventare una cosa che scegliete voi, una scelta del tutto personale. Ma a me spaventa che diventi una paura perché non lo deve diventare. Cioè non puoi dire io non viaggio. Le ultime persone che mi hanno scritto in tal senso c'era proprio un timore reverenziale nell'essere etichettati come la persona che inquina. Questa paura non deve esistere. Ci deve essere una serie di comportamenti che si attuano dal giorno 1 al giorno 365 di un anno in cui si cerca di impattare il meno possibile, cominciando da casa. Quindi poi il viaggio io non lo sto sminuendo, ma sto dicendo che il viaggio può anche essere controbilanciato in un certo senso e da altri atteggiamenti sia in viaggio che durante il resto dell'anno. Quindi mi sento di dire che è una problematica che ha un senso importantissimo e fondamentale, ma che non deve diventare una paura, perché sarebbe poi un'altra cosa. Chiacchierata finita, abbiamo parlato di questo argomento perché mi stava a cuore visti i numerosi messaggi che mi sono arrivati nel 2024 e che immagino continueranno ad arrivarmi da persone che sembrerebbero non centrare una cippa con Viaggio Vero, oppure quindi persone che non viaggiano, che non riescono a viaggiare, oppure frequentano la community di Viaggio Vero, mi scrivono su Viaggio Vero, come dicevo all'inizio, un po' per trovare conforto, un po' per trovare eventuali soluzioni, un po' per trovare me il sottoscritto che gli dica quello che ho detto all'inizio, che non è un obbligo a viaggiare. Credetemi, quante persone ho messo a relax, perché erano tesissime, dicendogli questo, non è obbligatorio viaggiare. E queste persone si sono subito rilassate, le ho proprio viste cambiare atteggiamento, oppure cambiare viso se li avevo online. E questo, da un certo punto di vista, mi fa piacere, da un lato mi carica di responsabilità che non dovrei avere, perché io parlo di viaggi, però ogni tanto cerco anche di fare questi video, che per l'amor di Dio spero che aiutino comunque qualcuno, anche se non a viaggiare, a fare un po' più di ordine, dissipare quella nebbia. Io guardo un sacco di video per altri motivi che a volte mi dissipano la nebbia che ho nel cervello e questo mi fa piacere, quindi provo a ottengo del beneficio io da alcuni personaggi e provo a darne io ad altri. Questo è un po' uno scambio, una ricerca di pareggiare un karma, ecco. Se questo video ti è piaciuto, ti è tornato utile, ti ha aiutato in qualche modo, allora un pollicione verso l'alto aiuta a crescere il canale, per questo ti dico già grazie, grazie, grazie. Se non sei ancora iscritta o iscritta e comunque non ami viaggiare ma pensi che questo canale ti possa aiutare in altri modi, allora come vuoi. Il pulsante per iscriverti è qui sotto, completamente gratuito. Qui a fianco stanno passando altri due video che parlano di crescita personale, o qui a fianco non mi ricordo mai, che parlano di crescita personale riguardante il mondo dei viaggi.